Cerberus, Centaurus e ora anche Griffon. Da instancabile trasformista il virus responsabile del Covid-19 muta continuamente, ma in Abruzzo, nonostante l'allerta per le nuove varianti, Omicron 5 continua ad essere protagonista in discorso della scena sanitaria ed è per lui che, come in un campionato sportivo con gironi a squadre, dovremmo fare il tifo per evitare nuove complicazioni pandemiche, considerato l'alto numero di contagiati da questa variante fino ad oggi predominante nella nostra regione, perché l'andamento della pandemia nei prossimi mesi dipenderà soprattutto dalla permeabilità delle nuove varianti, dichiara il professor Liborio Stuppia, direttore del Laboratorio di Genetica Molecolare dell'Università d'Annunzio di Chieti. Possiamo fare un po' l'inventario delle varianti che in questo momento sono presenti in Abruzzo? Sì, in questo momento è comunque ancora prevalente l'Omicron 5 dall'inizio dell'estate che è quella che insiste di più sul territorio. Poi abbiamo avuto alcuni casi della Centaurus, però trovati a Teramo, non ne abbiamo trovato mai, abbiamo trovato un caso di questa variante nuova, l'XBB1, che è stata poi anche dalla famiglia Pentagon, che è stata anche poi ribattezzata Griffon, ma è un caso soltanto. È stata poi una variante su cui c'è stato l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma finché rimangono casi sporadici non sono un problema. La verità è che Omicron 5 tuttora rimane prevalente. Ci sono varianti che spaventano più di altre? Adesso c'è molta attenzione per la Cerberus, però vorrei far notare questa cosa. Quando si disse che sta arrivando l'Omicron nell'autunno un anno fa, Omicron effettivamente è arrivata e ci ha fatto molto male. Dopo è stata la prima volta che varianti attese non hanno sfondato. Centaurus non ha sfondato sul territorio, ancora sono meno casi dell'Omicron 5, quindi può anche darsi che adesso le nuove varianti che si creano non riescano nei fatti a scalzare. Questa è una cosa buona, cioè noi dobbiamo sperare che rimanga Omicron 5, perché così tra chi ha avuto, e sono tantissimi, l'infezione quindi è protetto dall'immunità naturale e da chi inizierà a fare i vaccini che proteggono contro Omicron dovrebbero avere finalmente un momento positivo. Se invece arrivassero nuove varianti capaci di infettare chi ha già preso Omicron 5, purtroppo ricominceremmo la storia un'altra volta. Adesso è da un po' che Omicron regge e se continuerà a reggere forse vediamo veramente la luce fuori dal tunnel. I vaccini continuano ad avere una funzione di prevenzione in questo senso? Assolutamente, quando prima dicevo che cambiano anche le situazioni tra le persone che sono protette dalle infezioni, ci sono anche i vaccinati, non solo quelli che hanno avuto l'infezione. Allora diciamo che adesso la quarta dose del vecchio vaccino è utile per le persone fragili, invece la, chiamiamola la prima dose del nuovo, cioè nel senso il vaccino con la capacità di creare reazione verso Omicron sarà importantissimo per finire a coprire tutta la popolazione. È chiaro che dovremo entrare nell'ordine di idee che ci dovremo poi vaccinare ogni anno, ma sarà come l'influenza che sarebbe il caso di accoppiare al vaccino contro il SARS-CoV-2, perché non ci dimentichiamo che l'influenza comunque anche prima faceva 7.000 morti l'anno e che in un momento in cui l'abbiamo tenuta da parte avendo vissuto due anni con le mascherine, adesso che abbiamo tolto ogni forma di protezione, anche l'influenza si potrà rimanifestare. Quindi il mio consiglio è doppio vaccino contro influenza e SARS-CoV-2. Grazie. Grazie.